Sono partiti questa mattina Imperi e lavori di riqualificazione di Calata Anselmi con l'abbattimento del muro di via San Lazzaro di fronte alla sede della Capitaneria di Porto. L'intervento è stato disposto con ordinanza urgente dal sindaco Claudio Scaiola rivolta alla Goa Imperi e alla società comunale che gestisce lo scalo turistico. Questa mattina ha compiuto un sopraluogo nel cantiere l'assessore ai lavori pubblici Esther D'Agostino. L'intervento comprende anche la bonifica della zona alle spalle del muro dove verrà creata un'area di parcheggio. Il tutto dovrà essere ultimato e pronto per settembre in occasione del raduno delle vere d'epoca. Intanto la Goa Imperi ha ultimato la sistemazione di una passeggiata pedonale già aperta al pubblico che unisce il parcheggio di San Lazzaro al porto turistico. Lungo la passeggiata è stata ricavata anche una piazzetta con delle panchine.